Si è svolta questa mattina nella Sala Riunioni del Municipio la riunione tra Comune e Sovraintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, sull'andamento degli scavi archeologici Piazza Kennedy. Dopo gli ultimi ritrovamenti relativi a un edificio del 1600, si cercano ora i vecchi muri perimetrali di Sant'Agnese, chiesa del V secolo, Cueva a Sant'Agata. Proprio per approfondire le ricerche dell'antico edificio di culto, l'assessore Riveranni ha dichiarato questa mattina che si scaverà fino a 4 metri di profondità. Abbiamo fatto questo incontro per fare il punto della situazione, perché ormai è evidente a tutti che stiamo procedendo, oltre che alla riqualificazione della piazza, così come da progetto, anche ad una verifica archeologica e storica dell'area dove esisteva la chiesa di Sant'Agnese. Ci sono dei rinvenimenti che sono a vista e che hanno anche incuriosito molti cittadini, ma in realtà tutto ciò che vediamo è ciò che ci aspettavamo che emergesse, perché le fonti di cui siamo a disposizione, e la stessa sovrintendenza ce lo conferma, ci dicono che queste parti di edifici dovevano essere presenti in quell'area. Noi procederemo, così come abbiamo fatto fino adesso, con il cantiere ordinario di Piazza Kennedy, per ottemperare al progetto e contemporaneamente la sovrintendenza con gli archeologi fa questi scavi, sempre più profondi in alcune aree, per arrivare fino a trovare quello che sappiamo esserci, ossia la parte perimetrale di Sant'Agnese, però del XII secolo, perché l'originaria è del V secolo, ma ha avuto molti rimaneggiamenti e l'intervento più importante sul quale noi potremmo arrivare è quello del XII secolo. Rispetto alla valorizzazione di quegli eventuali reperti, come amministrazione ci siamo dati disponibili a valutarli insieme alla sovrintendenza. Sappiamo che oltre che la sovrintendenza regionale, laddove decidessimo di valorizzare quanto emerge, deve intervenire anche poi la sovrintendenza di Ravenna per la conservazione poi dei beni e quindi siamo assolutamente, come dire, in un tavolo aperto, dinamico, per portare avanti il nostro progetto e valorizzare eventualmente, laddove ce ne sia la possibilità, anche in ragione di ciò che rinveniamo, le aree di Sant'Agnese. Valorizzare e tutelare il loco o non il loco? Beh, se si può e se ciò che rinveniamo lo consente, sicuramente è preferibile farlo in loco, proprio perché il progetto non ne risentirebbe in termini negativi. Dipende tutto molto davvero dalla possibilità, perché non tutto ciò che emerge può sopportare di rimanere scoperto e quindi bisognerà prevedere a quel punto una progettazione che eventualmente punti a mantenere e conservare i beni. Quindi con una eventuale modifica al progetto della piazza, al progetto su cui si sta lavorando? Ma insomma, se modifica significa stravolgimento? No. Se modifica significa integrare con elementi aggiuntivi che emergono dagli scavi che stiamo facendo, non ci sottraiamo certo a questa ipotesi. Rappresenta appunto anche la Fondazione del Monte, la loro posizione qual è rispetto appunto al progetto della piazza e agli scavi che finora stanno facendo? La Fondazione del Monte si è dimostrata come noi molto interessata, disponibile a valutare volta per volta come procedono gli scavi e sapendo che la decisione è nostra come amministrazione, disponibile a valutare le varie ipotesi di conservazione e valorizzazione di quanto si trova, anche loro ribadendo il principio di una piazza, però che deve essere chiaramente terminata, deve essere fungibile nei tempi previsti dal cronoprogramma, però abbiamo trovato una grande attenzione. Siete dati un prossimo appuntamento per rifare il punto a distanza di... Sì, ci siamo dati un prossimo appuntamento, non abbiamo definito una data, non passerà molto tempo perché mano a mano che gli scavi procedono noi li seguiremo, per cui io credo che al massimo tra 30 giorni ci potremo rivedere per fare il punto insieme di nuovo. Vi aspettate delle sorprese? No, non ci aspettiamo delle sorprese perché devo dire che gli archeologi che lavorano sono dei grandissimi professionisti, la sovrintendenza con cui c'è una grandissima collaborazione ha sotto controllo le fonti e i dati che servono per fare questi tipi di interventi. Diciamo che non sappiamo esattamente che cosa ci può essere perché le fonti sono molto rare e di difficile comprensione da un certo punto di vista però non ci aspettiamo cose non prevedibili. Ecco, ci aspettiamo di arrivare eventualmente al perimetro di Sant'Agnese, questo sì. E fino a che profondità si scaverà? Allora, nell'area Sant'Agnese intorno ai 4 metri, 4 metri e mezzo. Quanto riguarda invece un altro scavo che verrà fatto nell'angolo Monte dei Paschi, ex Tribunale, Palazzo Rasponi e Piazza Candy, lì dove c'erano gli orti praticamente lì verrà fatto uno scavo più profondo di mero carattere scientifico per leggere la stratigrafia. Una domanda. Che lì sotto ci fosse Sant'Agnese si sapeva fin dall'inizio. Questo aspetto però non è stato un po' sottovalutato nel momento in cui si è pensato al progetto iniziale della piazza? Ma infatti noi siamo i meno stupiti nel senso che le notizie che girano mettono grande enfasi. Poi adesso noto che ci sono molti archeologi a Ravenna che si interessano all'improvviso di tutto dimenticando che abbiamo otto monumenti UNESCO siamo una delle capitali, siamo capitale della cultura 2015 insomma con tutto ciò che rappresenta la cultura per la nostra città e i nostri straordinari monumenti ma abbiamo il museo archeologico, abbiamo il porto di classe siamo pieni di reperti, tamo, la domus dei tappeti quindi devo dire che sono io un po' stupito che ci siano tanti archeologi che all'improvviso rivendicano un ruolo nella storia di Ravenna che già ha. Noi sapevamo, conoscendo la città, che quando scavi nel centro cittadino soprattutto è evidente che possono emergere dei ritrovamenti e quindi non siamo particolarmente stupiti siamo affascinati da queste che può essere una bella opportunità per la nostra città e quindi la stiamo seguendo seriamente con i piedi per terra affidandoci a chi scientificamente ci sa dare delle risposte non solo estetiche ma proprio di carattere architettonico e storico che credo che sia la cosa migliore per valorizzare al meglio Ravenna.